proseguiamo sì questo dovrebbe essere l'ultima precisamente allora facciamo un salvataggio e facciamo una cosa ora stanzi no sentiero di lava facciamo una cosina torniamo indietro usciamo da qui aspetta ah c'era un sentiero non penso di averlo mai visto forse no sì forse l'avrò visto ma non l'avevo visto adesso perfetto ehi drago riportaci un attimo in città per favore l'unica vera rottura di balle di questa zona è che per fare avanti indietro al castello devi continuamente passare dalla montagna al villaggio io mi semplifico la vita passando al sentiero astrale che nonostante il percorso sia un attimino lungo c'è subito il tubo e siamo subito lì ah quanto tempo eh quanto tempo è passato da quando siamo arrivati qui nel sentiero astrale mamma mia 450 208 vabbè ho anche creduto troppo va bene quando facevamo a dir tanto 5 di danno ai nemici mamma mia entriamo nel tubo e torniamo al villaggio andiamo al negozio dell'alimentari ecco fatto i soldi ormai non sono più un problema compriamo 88 funghi massimi è stata una spesa stupida abbastanza voglio solo vedere adesso quanto facciamo abbiamo 4 stack massimi di tutti i tipi funghi o meglio uno stack per uno al nemico di prima abbiamo fatto 204 205 voglio vedere sicuramente il bonus non sarà aumentato di tantissimo ma voglio vedere quanto facciamo ora così giusto per sfregio siamo arrivati a fine a fine serie voglio giusto giusto vedere proprio madonna mia con quanti colpi la sfasciamo 260 dio mio aspetta devo farlo con mario però devo farlo con mario vieni qua ecco qua 260 oh giio mio quanto ti sfondo il culo magari poi adesso ne trovavamo ne trovavamo anche altri due tre a dir tanto di funghi massimi magari forse però c'è veramente voglio forse anche un po' vendicarmi della mia prima partita in cui ci ho messo giorni solo per farla era anche soddisfacente secondo me a modo suo giocare da bambini perché la giocavi nel modo più puro e anche più sbagliato a volte però veramente c'era tutto quello che c'è da sapere uff altri ultrafunghi c'è da sapere in sostanza quando giochi questi giochi ovvero che il gioco è nuovo e stai veramente partendo da zero senza nessun tipo di conoscenza e secondo me è questo il bello dei giochi perché quando ne inizi uno nuovo non vedi l'ora di vedere come va avanti e secondo me la cosa brutta che stiamo perdendo anzi la cosa bella che stiamo perdendo in questi anni è il volere scoprire per quello secondo me è pieno di leak perché tutti vogliono tutto subito devi sapere per forza chi sarà il personaggio principale devi sapere per forza chi sono i compagni devi sapere per forza chi sarà il boss finale se c'è un boss segreto qual è il nuovo Pokédex quali sono i nuovi starter quali sono le evoluzioni degli starter come funzionano i leggendari abbiamo perso quella magnifica voglia di scoprire quella voglia di vedere come sarà effettivamente il nuovo gioco Pokémon come sarà il nuovo gioco che ne so di di combattimento il nuovo gioco di Mario e Luigi il nuovo tutto si può adattare a qualsiasi argomento e credetemi quella magia di scoprire il gioco passo per passo ormai secondo me è rovinata molto da la nostra voglia di curiosità perché uno può dire allora scusami anche tu stai parentesi rovinando la sorpresa a chi giocherà questo gioco nì nel senso uno il mio è un gioco vecchio e quindi non sto rovinando tecnicamente niente a nessuno ma altra cosa è che su YouTube tu hai la scelta di volerlo seguire o meno quindi è una tua scelta sì puoi anche una tua scelta leggere il leak ma molto spesso le testate scoperto un nuovo Pokédex guarda chi c'è ti viene anche la curiosità giustamente siamo arrivati non mi ricordo no forse forse c'è ancora una stanza no siamo arrivati preparatevi questo è uno di quegli scontri che ho odiato comunque spero di aver spiegato il mio concetto c'è qualcosa qui ovviamente no c'è qualcosa qui ovviamente no che rabbia disgustevolmente siete arrivati bene è arrivato il glorioso momento in cui posso mostrare tutto il mio potere clink clink in un luogo così prestigioso e con tutte queste luci mi vergogno un po' ma pensarci bene se la stocchia ghignarda è resuscitata lo deve orrendevolmente a me sono sempre io quello che si sacrifica per gli altri e questo significa che sono molto confuso sullo scopo di questa battaglia basta con le parole ora è tempo di dar battaglia orrore disgusto combattiamo strozzetto occhi tocchi ecco cosa che da bambino non sapevo benissimo bisogna far surriscaldare questa cosa di metallo modo migliore per farlo continuare ad attaccare e quale miglior modo se non un attacco di fuoco potrei fare la versione avanzata ma se non sbaglio quella viene contata come attacco singolo mentre questa è contata come attacco multiplo il che a noi serve la vostra perseveranza è fastidiosa mangiate questo aspetta ne manca una ok vai 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 no i miei doppi punti e ora si è surriscaldato aia bollente mi surriscalderò fratello espulsione no come è mancato ah forse me l'ha mancato perché l'avevamo sconfitto fungo d'oro disgostevole che succede come ho potuto perdere ma il destino va accettato anche se ornevolmente che rabbia ah ecco l'inaspettato ritorno di un avversario imbattibile voi ridicoli personaggi frutto della mente di un folle voi disgustevoli scomparite insieme alla fagiolandia beccati questo sorpresa per l'ultima volta delle ultime volte la situazione si capovolge ancora ah 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 sono pelato che rabbia all'ultimo momento finale in un attimo di distrazione la situazione si capovolge ancora e si capovolge e si capovolge ancora beccati addio ah ah sono nuovamente in debito con voi bene allora arrivederci andate voi ad uccidere il boss finale è un problema nostro è un problema di fagiolandia ho visto ultrafungo e ultimo salvataggio signori ci siamo boss finale portone quindi signori vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto in meno di 20 ore stiamo per finire questo gioco grazie a tutti e alla prossima puntata ciao ciao a tutti Grazie a tutti.